Se Putin si è indebolito è difficile dirlo, quello che è certo invece che l'intera comunità internazionale lo considera un paria. Il presidente Biden da Chicago picchia duro contro il leader del Kremlin, a suo dire sta chiaramente perdendo la guerra in Ucraina e alla fine vincerà Kiev. E forse sarà davvero così, ma per ora le sofferenze inflitte al popolo ucraino dai russi sono indicibili. L'ultimo attacco, quello di ieri sera contro la città di Kramatorsk, nella quale sono morte 11 persone, ne è la riprova. Intanto si continua a combattere in diverse regioni del paese, mentre si rincorrono ricostruzioni puntualmente smentite dalla controparte sull'ammutinamento di Prigogin. Secondo fonti statunitensi, il capo della Wagner voleva catturare i leader militari russi. Il piano di ammutinamento sarebbe stato anticipato, dopo che un altro generale di Mosca ha saputo in anticipo della sua esistenza, e mentre si rincorrono le smentite sui social compare la notizia dell'arresto del generale russo Sergei Surovichich, che, secondo il New York Times, era a conoscenza della rivolta progettata da Prigogin. Ovviamente non vi sono confermi ufficiali, intanto da Kiev, dove è in visita il presidente polacco Andrei Duda, mette in guardia dalla presenza della milizia Wagner in Bielorussia, perché, dice, costituisce una potenziale minaccia per i paesi del fianco orientale della Nato.